Uomo e universo, un dialogo senza tempo. Questa è il titolo della mostra a Palazzo Ducale a Genova. Abbiamo degli artisti che vengono un po' da varie parti del mondo, Philip Bevan, Karopur, John Finangan, abbiamo Ifegeneia Papagorgiu e Stefi Rodigas. Allora, che dire di questa mostra? Beh, la tematica è estremamente profonda e interessante. Si può declinare in molteplici modi. Si parla dell'uomo in questo caso forse proprio al centro dell'universo, ma si parla anche di un connubio particolare, quello di arte e scienza. Universo, però, non solo può essere inteso come l'universo fisico, ma si può parlare anche dell'universo che è intorno a noi. La nostra casa, la nostra famiglia, i nostri rapporti possono essere il nostro universo, ma ci può essere anche l'universo dell'ambiente. Ci può essere l'universo di quello che vediamo accadere nel mondo. E poi, certamente, c'è un universo più spirituale, qualcosa che ci porta e ci fa andare verso l'alto, a qualcosa forse di più sublime. Ma andiamo a vedere, a accennare a come gli artisti hanno trattato questo argomento. Philip Bevan, beh, con l'arte astratta, il colore, sappiamo bene che questo tipo di disciplina artistica lascia libero spazio all'immaginazione, ma lui è riuscito a catturare non solo tramite questa gestualità istintiva, ma anche con il colore. Il colore che ha utilizzato è sicuramente molto accattivante. Karopur, beh, Karopur mette in evidenza una parte del nostro pianeta, ma si vede il dialogo tra la Terra e il cielo. E quindi qui si parla proprio di quell'universo che può essere l'ambiente in rapporto al grande dono che un'entità ci ha regalato e ci fa riflettere su come noi stiamo agendo. La stessa cosa si può parlare di Joan Finengen, con un'altra tecnica, con un'altra modalità. Lui ha delle linee, dei tratti molto più decisi, molto più severi, quasi a sottolineare la rigidità a cui siamo sottoposti. I Fegineia, Papa Goggio, lei ha dato origine sicuramente a un'opera che non si può guardare con superficialità. Bisogna osservare, bisogna guardare, andare a oltre. Ricca di tantissimi dettagli e molto, molto cromatica. Terminiamo con un'artista che ha messo il focus su un problema del nostro pianeta, un problema dei fanciulli, dei bambini, il problema dell'acqua. Sto parlando di quest'artista, Steffi Rodigas, c'è un'immagine che dà una grande emozione, uno sguardo di questo fanciullo che è già un universo che si vede nei suoi occhi.